Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z, Dokkan Battle, versione JAP, poiché quest'oggi siamo qui con l'ESA di Golden Freezer. Allora, fermi tutti, ci andremo a giocare soltanto lo Stage 30 e poi andremo a provare il personaggio ad ESA, quindi completo, livello 140. Volevo giusto mostrarvi il team che sto utilizzando, team non consigliato, non ottimale assolutamente. Però attenzione, perché è un team che, sinceramente, con i personaggi che possiedo, non mi son farmato i Metacooler e quindi non ho Metacooler Int, per farvi capire. Però è un team che, per il mio box, ad esempio del JAP, mi permette di portare a termine, tranquillamente, in tutta sincerità, questo ESA. Quindi, ci portiamo a termine giusto l'evento. Allora, giusto per farvi capire, anche per, magari in proiezione, di quando uscirà questo evento all'interno del Global, quindi l'ESA di Golden Freezer nel Global. L'evento è, a quanto pare, debole soltanto ai Wicked Bloodlines, quindi praticamente ai personaggi che rientrano all'interno del class team di Metacooler, ecco. Quindi, Most Malevolent. E, a quanto pare, è debole, o meglio, riceve danni effettivi soltanto, pare, dagli Extreme. Anche se, in realtà, dagli Extreme Int, mi è perso di capire come si deve, eh, come si deve. Però, comunque, subisce qualche dannetto, eh, lo subisce. Li fa anche, come potete vedere, però, allo stesso tempo. Ehm, ci sarebbe da sottolineare una cosa, eh, qui, ci sarebbe da sottolineare una bella cosina, però fermi un attimo. Perché? Allora, io vorrei lanciare... Allora, se facessi così, 1, 2, 3, oddio. Sì, dai, va bene, va bene, va bene. Riusciamo ad andare in 18 ki con... con Metal Cooler Int, e poi con Golden Freezer riusciamo a lanciare la special. E lanciamo anche la special con Freezer Tech. Ehm, ecco, cosa che volevo farvi notare, che volevo proprio dirvi. Ancora una volta, come potete vedere, Metal Cooler Int LR, reward del... del Battlefield. È un personaggio utile per un altro ESA. E rientra come parte attiva, e potrebbe, volendo alla lontana, giocare anche come leader, in assenza di Golden Freezer Int, come leader. Ora, non è per dire, ve l'avevo detto, non è per dire io le top che faccio su determinati personaggi, o determinate categorie di personaggi, le faccio così, tanto per, eh. No, ci sta che qualcuno non sia d'accordo con me. Non ci sta chi viene a dirmi, a prescindere che quella top fa cagà, e soprattutto che quel Meta Cooler Int non sta bene lì su al primo posto, perché non ci capisco niente del gioco, no? Come vedete, qualcosa ci capisco. È il personaggio, a livello delle LR free to play, al di sopra di tutti. Non mi smuovete da questa idea, non mi si smuove minimamente. Quindi, ESA completato. Signori, andiamo a provare Golden Freezer, a questo punto, livello 140, ESA fullato, ovviamente. Non purtroppo full ability, però, dato che a molti non piace il card test, evitiamo Golden Freezer full ability, e giochiamo il nostro ad ability 1. Quindi, il PG finale ad ESA, livello 140, si presenta in questo modo, ovviamente questo qui, ve lo ricordo, è da ability 1, il mio, abbiamo 15.649 HP, 15.953 attacco, e 9.607 di difesa. Stats non male, ovviamente. Abbiamo la leader, praticamente, da Neo God Tech, quindi colore puro, quindi chi più 3 HP attacca e difesa più 120%. Immense Damage, ovviamente, in special, con possibilità, anzi, garanzia di abbassare la difesa tantissimo al nemico. In passiva, attacco più 80%, basta, all'inizio turno. Danno ricevuto, meno 80%, quando gli HP sono al di sopra del 50%, mentre addizionale più 50% di danno ricevuto del meno 50%, quando invece scendete al di sotto del 49% degli HP. Quindi avete, stabilmente, un attacco più 80%, a prescindere. Se vi trovate al di sopra del 50% degli HP, lui è più tankoso. Se scendete al di sotto del 49% degli HP, lui, invece, continua a tankare benissimo, secondo me, ma allo stesso tempo diventa anche un DPT incredibile. Signori, tanta, tanta roba questo Eza. A me, allora, non l'ho provato praticamente mai, non l'ho provato nemmeno all'interno del Cartes, perché davvero volevo aspettare questo video, volevo aspettare il momento di provarlo insieme a voi. A me piace tantissimo questo QQ come Eza, ve lo dico. Credo che così, soltanto alla lettura della carta, sia uno degli Eza, davvero, potrebbe rientrare nella mia... dovrei pensare. Cioè, potrebbe rientrare però davvero nella mia top 3, a livello di carta assoluta come Eza, perché credo che sia uno degli Eza studiati meglio in assoluto. Allora, per quanto riguarda le rotazioni, vorrei metterlo in rotazione principale insieme a... perché no, Golden Angel, anzi no, volevo metterlo in realtà in rotazione insieme a Freezer Tech. Mentre l'altra, ecco, volevo lasciarla con Golden Angel e Metal Cooler. Insomma, sto utilizzando comunque questo Resurrected Extreme, che anche perché non possiedo effettivamente il... né nel Global né nel JAP a questo punto il team di Metal Cooler AGL. Quindi in un modo dobbiamo, in un certo senso, provarlo questo personaggio. E ho deciso di provarlo proprio in Resurrected Warriors per cercare di alzare anche le proprie stats, in modo da provarlo al meglio. Insomma, provare un... per dirvi, un Metal Cooler Int, Metal Cooler AGL, non sarebbe stato incredibile, secondo me. Allora, per il momento facciamo così, ok? Quindi cerchiamo di fare entrare comunque anche in turno sto Golden Freezer Tech, perché davvero non... Ci è capitato male, diciamo, ci è capitato male. Quindi, sperando anche il Dokkan Event di It riesca a durarci sotto, eh, ma ne dubito fortemente, dico la verità. Ne dubito davvero fortemente. Quindi, 1.4 milione per il nostro Freezer Prima Trasformazione. Ecco qui, perfetto. Che, allora, mi sa, 2 milioni e 4 per Golden Freezer Int, anche se questo qui dovrebbe essere full ability, attenzione. Comunque, è bella robina, è bella robina, sicuramente. Questo qui è un altro ESA, molto bello, molto bello, anche se è un buffer. Allora, eccolo qui. Valutiamo un attimino, ci conviene lasciare direttamente Golden Int al posto di riunire entrambi i tech? Secondo me sì, dai. Così ce lo proviamo davvero come si deve, sto personaggio. Sì, lasciamolo così. Allora, proviamolo. Siamo al di sopra del 50% degli HP. Ergo, il personaggio al momento è un tank pazzesco. 42 mila di difesa? Aggiungete... Fate conto che quello lì non è un 42 mila di difesa, ma è... Che vedevo di... 200 mila, 250 mila di difesa? Forse pure è poco. Vabbè, per farvi capire. Quindi il personaggio per il momento attivo che cosa? Attacco più 80% e riduzione del danno dell'80%. Quindi davvero abbiamo, secondo me, un danno consistente, poiché raggiungiamo 1 milione e 4 con soltanto un 80% in fin dei conti ad inizio turno e attenzione, ability 1, ability 1, 1 milione e 4 con 80%. Ed in più abbiamo anche un tanking del... Una riduzione del danno dell'80%. Ora, io vorrei farmi davvero distruggere da sto hit, ok? Riusciamoci... Ottimo. Ottimo così, va benissimo. Quindi, in teoria nel prossimo turno dovremmo avere Golden Freezer nella sua seconda versione dell'ESA. Quindi, con attacco più 80%, riduzione del danno del 50%, quindi la metà praticamente, sempre tantissima roba, secondo me, ma attenzione, addizionale attacco più 50%. Ma in realtà no, sapete che me ne sto rendendo conto adesso? Non siamo scesi al di sotto del 49%, no. Siamo all'incirca al 51%. Quindi abbiamo ancora attivo l'80% qui. Abbiamo ancora attivo soltanto l'80% e vediamo il valore di difesa un attimino più elevato e anche un milione e sette piuttosto che un milione e quattro perché abbiamo attivo praticamente, in turno avevamo attivo in realtà, il buff di... di Kid Buesa. Per questo motivo. Va bene, quindi non siamo riusciti a scendere al di sotto. Peccato, caspita, peccato. Ok, fermi. Sto cercando ancora una volta, ho provato in realtà, a manovrare di nuovo il Dohkanem. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Non mi bloccare Golden Freezer, per favore. Ottimo, yes, yes. Allora, fermi, fermi. Siamo finalmente nell'ipotesi, anzi nella situazione in cui abbiamo. HP al di sotto del 49%, finalmente a sto giro, attenzione, finalmente. E... e... danno ricevuto del meno 50%, con attacco più 50% sull'attacco più 80% iniziale. Un milione e otto. Senza buffere in turno, se non va derata, non c'era nessuno che ci buffava. Signori, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a mostrare Golden Freezer in tutta la sua interezza. Questo qui è l'ESA finale di Golden Freezer Tech. Ad Ability 1, fermi tutti ad Ability 1. Gran, gran, gran personaggio. Gran, gran, gran ESA. Personaggio consistente ai massimi livelli. In qualsiasi situazione lo mettete, fa tutto. Fa danno, tanca. Se è al di sopra del 50% di HP, tanca di più rispetto al danno che fa. Tanca molto, in realtà, di più, molto di più rispetto al danno che fa. Se lo mettete al di sotto del 50% degli HP, o del 49% in realtà degli HP, ok, fa un bel, un po', un bel po', dai, di danno in più consistente rispetto a quanto ne faceva prima. Tanca lo stesso, ma non come prima. Insomma, tanta, tanta roba, signori. Gran personaggio, ESA approvatissimo. Approvatissimo molto più, secondo me, di alti ESA. Quindi, tanti mi piace per un video di questo genere. Commentate, condividete, iscrivetevi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo ESA. Se, secondo voi, potrebbe essere il migliore. O se, comunque, potrebbe rientrare in una top 3, top 2, top 5. Insomma, fatemelo sapere che posizione lo piazzereste. E quindi, insieme, noi ci siamo ad un appuntamento, come al solito, ad un prossimo video. Grazie a tutti.